Allora, è uscito per i tipi di un importante editore, e lo potete trovare tranquillamente in libreria, un libro di Federico Caffè. Federico Caffè è sparito. Federico Caffè, vedi caso, fa parte di un gruppo di individui, i quali per essersi messi contro loro signori, spariscono o risultano uccisi, ad esempio parliamo di Majorana, vero autentico inventore della bomba tonica, che evidentemente non doveva rimanere nelle mani degli italiani. Parliamo di Olinto De Pretto, vero ideatore della formula della relatività e della teoria della relatività. Assassinato nel 1921, vedi caso, proprio l'anno in cui fu dato il premio Nobel, vedi caso, a Einstein. Per fortuna in quel caso lì ebbero un po' di pudore e il premio Nobel non gli fu dato per la teoria della relatività, sulla quale tanto si dibatte a tutt'oggi, gli fu dato per un'altra ragione, stato il fatto che bisognava dare dei soldi a quella persona. Perché? Perché bisognava finanziare una certa linea ideologico-politica correlata a certe persone che noi chiamiamo abitualmente loro signori. Ma per poter parlare ancora di gente che o sparisce o è stata uccisa, vogliamo ricordare Lincoln, ad esempio. Vogliamo ricordare, e lo ricordano in pochi, Carfield, il Presidente degli Stati Uniti, Carfield, che era stato un fedelissimo di Lincoln e che fu assassinato poco dopo la nomina Presidente degli Stati Uniti nel 1886. Presumibilmente perché quelle persone sapevano che Garfield avrebbe continuato sulla linea politica di Lincoln, che era quella di fare la moneta di Stato, il dollaro di Stato. La stessa cosa che riguarda sia Kennedy che John Fitzgerald Kennedy e il fratello, perché per quale ragione gli hanno dovuto uccidere tutti lui? Perché sapevano perfettamente che i fratelli... Forse anche il nipote. Esatto. Sì, il nipote sicuramente. Che hanno fatto passare per il drogato fracico? No, l'hanno fatto passare anche per uno che ha avuto un incidente aereo. Quella cosa più bella che può capitare. Ricordiamoci che il mistero dell'assassinio dei due fratelli Kennedy non può spiegarsi altrimenti che nel fatto che i loro signori sapevano perfettamente che Robert, da questo punto di vista, era ancora più duro. Aveva fatto un bellissimo discorso all'università a proposito del diritto dei cittadini. Naturalmente. E aveva fatto anche delle altre operazioni un po' forzate, ma insomma le operazioni c'erano. L'intenzione era evidente. E quindi è chiaro che i due sono stati fatti fuori così come a suo tempo furono fatti fuori i due fratelli Gracchi. Il concetto è lo stesso. è bravissimo. L'operazione è la stessa. Bravissimo perché rompevano un po' troppo le palle. Esattamente. A questo punto dobbiamo anche ricordare l'economista suicida Ivan Ayn che è quello che ha fatto la rivoluzione argentina. È lui la situazione dell'argentina da paese completamente asservito al potere finanziario ad un paese libero, prospero e ricco. Vi di caso Ivan Ayn l'hanno trovato che si era suicidato. Ma poi il bello è che si è suicidato in un momento in cui non c'era nessuna ragione che lui si suicidasse. Quindi vogliamo ricordarlo. E hanno provato a farlo oppure con Can, Troscan. Sì, però non gli è andata bene. Troscan l'hanno bruciato politicamente e pubblicamente perché Troscan voleva rettificare, modificare e innovare il Fondo Monetario Internazionale. La banca mondiale. La banca mondiale. Però, attenzione, tu mi hai messo una pulce, come solci dire, nell'orecchio. Fosse che fosse che Troscan si è salvato per il rotto della cuffia perché avrebbe potuto morire durante un amplesso selvaggio come è successo a un certo Rockefeller. Non lo ricordiamo mai che un Rockefeller che fu vicepresidente degli Stati Uniti e che era un personaggio piuttosto ambivalente rispetto agli interessi di famiglia è morto durante un amplesso selvaggio. Quindi attenzione anche a queste cosette. Che cosa c'è scritto nel risvolto di copertina del libro di Federico Caffè? Una frase molto interessante che vogliamo leggere per i nostri amici. Da tempo sono convinto che la sovrastruttura finanziaria borsistica, con le caratteristiche che presenta nei paesi capitalistici, favorisca non già il vigore competitivo, ma un gioco spregiudicato di tipo predatorio che opera sistematicamente a danno di tutti i cittadini. Quindi mi sembra che per essere un professore universitario… È scritto 30 anni fa, era veramente rivoluzionario. Abbiamo detto qualcosa di molto interessante. E allora siccome siamo anche in vena di rievocazioni, ricordiamoci un altro morto assassinato il quale è stato ucciso proprio per aver elaborato alla fine della sua esistenza dei concetti fondamentali che tutti vanno contro ai principi sostenuti dai pirati che governano l'economia mondiale. I keynesiani, più o meno integralisti, più o meno allineati, ma tutti keynesiani. noi parliamo del grande filosofo italiano Giovanni Gentile, il quale poco prima di essere assassinato e forse proprio per la stessa ragione aveva scritto un libro fondamentale che si chiama Generici e struttura della società. Vogliamo leggere alcune parti. Nel consigliare ai nostri amici l'acquisto e la lettura di questo libro fondamentale che Gentile ha scritto veramente poco prima di morire come completamento di un'opera colossale iniziata a fine ottocento con la critica del marxismo e finita appunto nell'ambito di questa terribile guerra civile che in realtà in un certo periodo è stato proprio caccia all'uomo, lo è stato all'inizio... Gli ultimi tre mesi prima della liberazione, dopo la liberazione... La cosiddetta liberazione, no ma non gli ultimi tre mesi, prima c'è stata una bella caccia all'uomo, poi la primavera di sangue è venuta dopo. Questo è il caso di Gentile, c'è stato ucciso prima. E leggiamo cosa scrive il 25 settembre 1943 a presentazione di questo libro di pugno di Giovanni Gentile. Questo libro è stato scritto a sollievo dell'anima in giorni angosciosi per ogni italiano e per adempiere un dovere civile poiché altro non ne vedevo innanzi a me, pensando a quell'Italia futura per cui ho lavorato tutta la vita. In esso il lettore troverà l'eco di molte cose esposte in precedenti volumi. Due trattazioni che erano nei miei fondamenti della filosofia e del diritto, terza edizione 1937, pagina 103-31, e nelle memorie italiane 1936, sullo Stato, sulla politica e sui rapporti dell'economia con l'etica, vi sono particolarmente riprese e approfondite, ma ciò che non è nuovo se l'è tirato dietro il nuovo, che è nel quarto capitolo. Non era stato mai detto, né da me né da altri e non mi pare privo di importanza. Nato, come tutti i miei concetti, nella scuola es compendia un gruppo di lezioni fatte nel passato anno 1942-43 nella Università di Roma sulla dottrina trascendentale del volere e della società. Attenzione, dottrina trascendentale perché in questa opera Giovanni Gentile esprime il concetto fondamentale che la società è qualcosa di completo, che completa la natura umana. È vero che lui dice societas in interiore omine, perché la società è nell'interno dell'uomo. L'uomo è tale se vive socialmente e la sua vita rappresenta la vita della società. Società trascendentale o società in interiore omine. Alter e socius, l'individuo umano non è atomo, immanente al concetto di individuo non esiste l'individuo isolato, come dicono loro signori, secondo i quali con una mentalità da pirata a essere gentili. L'individuo è un individuo solo e può fare degli altri quello che vuole, tra l'altro obbedendo a dei dettami insiti in quella infame Bibbia che di recente un autore e traduttore italiano ha detto essere del tutto infame. Perché non c'è io in cui si realizza l'individuo che non abbia, non è seco, ma in sé medesimo un alter, che è il suo essenziale socius, ossia un oggetto che non è semplice oggetto, cosa? Opposto al soggetto, ma è pure soggetto come lui. Questa negazione della pura oggettività dell'oggetto coincide con il superamento della pura soggettività del soggetto. Pensateci bene, è un concetto abbastanza difficile, ma è facilmente comprensibile. In quanto puro soggetto e puro oggetto, nella loro immediatezza sono due astratti e la loro concretezza è nella sintesi, nell'atto costitutivo dell'io. Quindi l'io è un atto costitutivo. Da astratto diventa concreto. Esattamente. Economicità dell'uomo e quindi dello Stato. La recente soluzione che fa dell'utile un grado elementare del volere destinato ad attuarsi pienamente come volere etico e le connesse dottrine del diritto e dello Stato come semplice forza o mera attività economica ha molto di persuasivo come ogni pensiero che si presenta semplice, chiaro, inquadrato in un sistema di concetti che formalmente siano nettamente distinti. Ma ha suscitato pure molte perplessità. E lo stesso autore è stato costretto da certo scuro presentimento di una diversa verità a postulare una forma di attività etico-politica che tende a unire quel che è stato violentamente diviso per raffigurare la vita dello Stato come processo di una realtà essenzialmente etica e quindi non economica. Questa è la risposta a quel grande pensiero italiano perché Gentile fu oltre a un grande creatore di pensiero anche un grande storico, un grande conoscitore della storia e un interprete dello storicismo e per essere interpreti dello storicismo bisogna conoscere esattamente come si è snodata la storia. Perché il cittadino non è l'astratto uomo né l'uomo della classe dirigente. Perché più colto, più ricca, né l'uomo che sapendo leggere e scrivere ha in mano lo strumento di una illimitata comunicazione spirituale con tutti gli altri uomini. L'uomo reale che conta è l'uomo che lavora e secondo il suo lavoro vale quello che vale. Tu vali in quanto lavori e secondo il tuo lavoro... In quanto capacità. Esattamente. Questa è una frase che è diventata una tale frase che praticamente... Questa è anche l'unità del valore, cioè il tuo valore è dentro di te, nelle tue conoscenze, nelle tue capacità, nelle tue mente. Esattamente, nella tua capacità di essere insincata e di lavorare. E di creare qualcosa per gli altri e non la speculazione. E quindi anche la monetizzazione di quel valore là. Esattamente. E quindi non è l'astratta aggressività dell'individuo solipsistico da solo... Al rivista. Al rivista che ha tutti i diritti di tartassare, depredare e torturare, perché una persona che si trova sotto la scure del debito è una persona torturata, che soffre dalla mattina alla sera. Debilitata. Oltredutto. Di tutti i diritti oltredutto. Esattamente. Quindi tu che cacchio vuoi, maledetto, che a un certo punto ti ritieni in diritto di estirpare da un uomo tutto quello che lui può dare per farlo diventare esclusivamente speculazione finanziaria. Allora, ripetiamo, l'uomo reale che conta è l'uomo che lavora e secondo il suo lavoro vale quello che vale. Perché è vero che il lavoro è il lavoro. E secondo il suo lavoro qualitativamente e quantitativamente differenziato, l'uomo vale quel che vale. Quindi questa è la tesi che noi abbiamo sempre sostenuto, che noi sosteneremo fino alla fine e che è la risposta della grande civiltà latina nei confronti della... Latino-greca. Greco-latina, chiamala come vuoi, nei confronti della speculazione finanziaria di origine biblica. Bravo, esattamente. E concludiamo con una frase. Il sentimento politico è l'humus in cui affonda le sue radici l'albero dello Stato. Ma la cosa incredibile è che i rivoluzionari che non volevano più la legge messianica e che appunto hanno inventato lo scenario della cacciata dal Tempio dei mercanti, poi in realtà sono diventati loro i mercati con l'istituzione della Chiesa. Esattamente, lì è un legame che prima o poi dovremo affrontare. Ripetiamo quest'ultima frase, anche se ci sarebbe da leggere tutto il capitoletto, ma eventualmente lo possiamo leggere un'altra volta. Il sentimento politico è l'humus in cui affonda le sue radici l'albero dello Stato. Non basta la strata convinzione dell'intima connessione della propria persona alla vita dello Stato. Tante cose si sanno e ne siamo convinti, ma non le sentiamo. Non sono, come si dice, sangue del nostro sangue, qualche cosa di connaturato all'animo nostro che vi si trovi sempre immediatamente e senza bisogno di riflettervi su, come l'amore che la madre sente per il suo figliolo e ne è dominata come da qualche cosa che fa tutt'uno con la sua natura, che è il carattere proprio del sentimento, di qua dal pensiero e a base del pensiero. Condizione che il pensiero sprigiona da sé nel suo ritmo vitale e si trova davanti, infatti, come sua condizione. Condizione paragonabile anche alla corporeità che l'individuo trova nella propria coscienza come fondamento al proprio esistere e operare. Che cosa vuol dire il filosofo? Dice che tu puoi avere il sentimento, ma se questo sentimento tu non lo vivi internamente ed esternamente come comportamento reale nel momento in cui tu percepisci dell'agire e nel lavorare, di lavorare e di agire in collaborazione strettissima, in un legame strettissimo con gli altri membri della tua società rappresentati dallo Stato, tu quel sentimento è come se non ci fossi. E con questo chiudiamo. Ciao a tutti.